Nel segno dell'identità, inaugurata a Perugia la nuova sede del Circolo dei Lucani in Umbria è intitolata Raffaele Nigro, presidente dell'Associazione per Dieci Ani, scomparso l'anno scorso. Un uomo, come ha ricordato il presidente del Consiglio regionale Folino, che ha contribuito con il suo insangabile lavoro a tenere in rete i lucani che vivono in Umbria, mantenendo vivo il senso di appartenenza alla comunità, alla cultura e alle tradizioni lucane. Nel suo discorso, inoltre, Folino ha sottolineato la politica della regione basilicata nel rafforzare la relazione forte con le tante basilicate presenti nel mondo. Sono più di 400 le famiglie di lucani che vivono in Umbria, apprezzati, come hanno ricordato gli esponenti istituzionali locali presenti alla cerimonia, per serietà e capacità nel lavoro. Il nuovo presidente del Circolo, Giuseppe Larocca, ha dedicato una targa alla figura e all'opera di Raffaele Nigro. Una relazione importante è quella tra la Basilicata e le comunità dei lucani sparse per l'Italia e nel mondo, ha sottolineato il presidente della Commissione regionale dei lucani all'estero, Antonio Di Sanza, mentre il direttore generale dell'APT Basilicata Perri ha parlato dell'opportunità di rafforzare i rapporti di cooperazione della Basilicata anche con i lucani dell'Umbria, regione che, come la nostra, presenta affinità nel turismo culturale e religioso.